Verona, attenzione Verdi, il gran tiro, la parata di Andanovic che salva la porta nera azzurra 19esimo minuto, Verdi, amnesia difensiva, si incuna nell'area di rigore, riesce a impegnare Andanovic Colpo di testa, miracolo! Colpo di testa, miracolo di Montipo! Ecco, 27esimo, colpo di testa, miracolo di Montipo! E quando incontrano i nuovi fanno il miracolo, colpo di testa, che segniamo Di Marco! Ma no! Ancora miracolo di Montipo! Colpo di testa, ancora miracolo di Montipo! Ha fatto un miracolo! Colpo di testa, Montipo a momenti si portava il pallone dentro la porta e invece è riuscito a ribattere! Grande parata di Montipo! Gol! Autogol! Autogol! Grande! Finalmente! Dopo tre miracoli consecutivi di Montipo, traversone di Di Marco! Intervene il difensore con un colpo di testa, meraviglioso! Insaccato all'angolino alla terra di Paolo! Grande autogol! Grande autogol! Veramente di gran classe! Colpo di testa in tuffo a trafiggere Montipo! Ancora Di Marco sul settore di sinistra! Cerca ancora il cross, poi si ferma! Va lì indietro per Mkhitaryan, che sbaglia il passaggio per Brozovic, che però... Che gol! Cialano! Che gol! Cialano! Ma che gol! 2 a 0! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol ha fatto! Che gol! 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 e facciamo pochi e gol meraviglioso di Lautaro e tra l'altro caro Enzo ti do la notizia con questo gol Lautaro stacca nella classifica dei marcatori di due tempi Mariolino Corso 76 gol Lautaro 75 corso quinto gol di Dzeko è di Dzeko 5-0 palla di Acerbi che si allarga sulla destra e poi batte con un perfetto diagonale per il 5-0 e lo sapevo a tradimento questo passaggio per Dzeko rientra un attimino Jacopo per lo faccio raccontare rientra pallone sul palo più lontano un gran gol di Dzeko e Lautaro fa il sesto gol Sesto Lautaro doppietta 6-0 primo set e vai Paulino e completiamo la grandissima non è più una partita di calza seguiamo però la punizione scusate se mi smonto un pochino l'entusiasmo grazie a tutti